Musica Benvenuti alla rassegna stampa di questa mattina, sono le 7.33 circa, siamo in diretta, voi ci mettete il caffè, la brioche e il cappuccino, noi ci mettiamo i giornali, dunque la mattinata dovrebbe cominciare in maniera perfetta, però prima diamo lo sguardo anche al santo e al tempo, perché oggi che tempo farà? Bisognerà prendere l'ombrello oppure no? Direi già subito di no, ma andiamo a vedere il santo prima di tutto, anzi i santi sono i Cosma e Damiano, martiri, ma mi faceva notare il regista che arriva da quelle parti, e anche Santa Giustina che è patrona di Mondolfo, il sole sorto alle 6.59 tramonterà le 7 di questa sera, il tempo, aria più fredda che irrompe sull'Italia, vento forte e calo termico temporali sulle isole, vedete un'Italia divisa in due con l'aria fredda che coinvolgerà il centro-sud, mentre l'alta pressione che coinvolge il centro-nord e che porterà comunque questa evoluzione che parte proprio da oggi, da mercoledì, porterà il bel tempo, anche se le temperature sono comunque scese e ce ne siamo accorti ovviamente tutti quanti. Dunque, per quanto riguarda la giornata di oggi, sulle Marche avremo cielo sereno poco nuvoloso, per domani altrettanto cielo sereno poco nuvoloso con aria tersa, quindi limpida, pulita, temperature massime in ripresa, localmente anche in maniera marcata, quindi saliranno in certi punti dove soprattutto a nord ci sarà alta pressione e poi ancora venti di brezza tesa lungo la fascia costiera. Domani, così come ancora vento moderato, venerdì 28 settembre, quando avremo cielo sereno poco nuvoloso. Insomma, per il fine settimana gli aggiornamenti confermano il tempo stabile, quindi ancora soleggiato, ma ho paura che insomma per andare di nuovo a prendersi la tintarella di fine settembre sarà un po' più complicato, soprattutto perché l'aria sarà fresca. Dunque, andiamo a vedere adesso i giornali, intanto salutiamo anche tutti quelli che ci seguono attraverso YouTube e Facebook, questa è la prima pagina dell'arresto del Carlino, il porto che avanza, rush finale per i lavori al cantiere Navale Rossini, chiesti nuovi collegamenti per la Croazia. Questa è la fotonotizia d'apertura, ma di taglio alto. Qui i sindaci vogliono l'estate lunga, spiaggia aperte tutto settembre, a Pesero nove bagnini ribadiscono, abbonamenti dei clienti stagionali garantiti ben oltre la scadenza. E la categoria si sente nel mirino, la risposta arriva alla proposta della regione. E poi, nelle pagine interne, un incidente con una tragedia, uno schianto, uno schianto, guardate le fotografie pubblicate sul giornale di questa mattina, un malore, una distrazione, insomma c'è stato un incidente lungo la Flaminia, si è schiantato contro la cuspide del guardrail che lungo la Flaminia procedendo in direzione Ancona fa da divisorio per il bivo che porta o alla Palombello oppure alla Zipa. Tragico incidente, quello avvenuto ieri mattina intorno alle 7.30 nel quale ha perso la vita un 77enne, Roberto Astolfi, originario e residente a Torrette di Ancona. L'uomo era alla guida della Fiat Rossa, che vedete Fiat 600, quando forse un malore o una distrazione ha perso il controllo dell'auto finendo contro il guardiavia, centrandolo in pieno. E queste sono le immagini, non c'è stato scampo per questo 77enne. Poi rischia di annegare per fare snorkeling a Porto Novo, provvidenziale l'intervento dei soccorritori di alcuni medici inglesi che si trovavano alla Capanina. Questa è la cronaca da Ancona del resto del carlino a Fano. Invece Santorso, auto prese di mira dai baby vandali, 5 mezzi colpiti in una notte, la gang già nota per aver distrutto pensiline e panchine, baby vandali scatenati, almeno 4 famiglie e 5 auto, tutte parcheggiate sotto casa. Sono state colpite nella notte tra lunedì e martedì dalla solita banda di teppistelli che da mesi semina danni nel quartiere e rabbia, soprattutto tra i residenti di Santorso, dopo aver preso più volte di mira la cosa pubblica, distruggendo appunto le pensiline degli autobus, le panchine dei giardinetti, eccetera, eccetera. Insomma hanno preso di mira anche le auto e come vedete hanno danneggiato, ne hanno danneggiate diverse, tra cui come dicevamo anche quella della Presidente della Confcommercio e di suo marito. Morta invece la contessa che ha fondato Famiglia Nova, a 86 anni se n'è andata, Paola Petrolati, questo è il suo nome da ragazza, figlia di industriali e di grande bellezza, come ricordano in città tutti coloro che hanno incontrato questa signora che vedete nella fotografia pubblicata sul quotidiano di questa mattina. I funerali domani alle 10 nella chiesa di San Paterniano, la città dunque perde, scrive il giornale, una bella figura. E poi la politica, sinistra unita a un passo dalla scissione, in due liste dall'Assemblea sarebbero uscite differenti visioni, divergenze sull'alleanza con il Partito Democratico. Teodosio Auspici, eccolo qui cerchiato, parla di personalismi che rischiano di cancellare un'esperienza che va avanti da 14 anni, mentre l'altra fotografia è per Marta Costantini della lista possibile. Da Urbino invece, niente più file per gli studenti, l'Università cambierà aspetto, il Rettore Stocchi interviene sui lavori a Palazzo Bonaventura e dice scatto in avanti. E poi la cronaca, sempre dal mondo universitario, è morto Lanfranco Ferroni, docente di diritto a Urbino, stroncato da un malore ieri al Tribunale di San Marino, aveva 68 anni. In caso di terremoto, e qui siamo di nuovo sulla pagina di Fano del resto del Carlino, in caso di terremoto corriamo verso un cantiere transennato. A Rosciano di Fano, un cittadino, ha scoperto una svista nel piano di emergenza di cui si è parlato in questi giorni. L'assessore Fanesi dice faremo le verifiche, scelti anche terreni privati perché di spazi liberi pubblici ce ne sono pochi e dunque adesso faremo le nostre verifiche per controllare se è come dice il segnalatore. Da Pian del Brusco invece a Montefelcino, a caccia va a caccia di funghi, Domenico Guidi di 93 anni è un cercatore di funghi e ne ha trovati cinque giganti e sono quelli che tiene sulle mani. Guardate, sono effettivamente molto grandi. Domenico Guidi è molto esperto e ha trovato cinque durelli giganti del peso di un chilogrammo e 300 l'uno. Sei fratelli e qui andiamo a Belforte all'Isauro, una storia, una storia di vita, quella familiare che ha festeggiato, ha voluto festeggiare il secolo di vita di Angela Gostoli ma attorno a lei sei fratelli che tutti insieme, messi tutti insieme, fanno 560 anni e tutto questo è successo appunto a Belforte all'Isauro. Andiamo ancora sulla pagina del resto del Carlino. Da Pesaro questa volta, il festival per la pizza che porta il nome del compositore, ovvero la pizza Rossini, un morso di pesaresità. Da venerdì a domenica in Piazza del Popolo c'è questo appuntamento, questo festival che celebra una pizza che tutti quanti noi amiamo, soprattutto chi ama l'uovo sodo con la maionese sopra la pizza margherita. È scattato dunque il conto alla rovescia per questo festival, da venerdì 28 a domenica 30 settembre in Piazza del Popolo ci sarà la prima edizione di questa manifestazione dedicata interamente alla pizza. 20 tavoli disponibili per il pubblico che vorrà assaggiare e dare un voto. E poi qui di fianco vedete anche la maglia che celebra questa pizza, I love, giocando un po' tra l'amore e l'uovo, love, PS, io amo Pesaro. E adesso apriamo invece il Corriere Adriatico. Andiamo a vedere la prima pagina, la prima pagina dedicata alla cronaca, si tuffa in acqua e si sente male, salvato da un medico in vacanza. Il Pesarese era al primo appuntamento con la compagna, in quattro si immergono per aiutarlo. A centro pagina invece un camion che si è incastrato nella rotatoria, traffico in tilta tra Via Cecchi e la zona del porto. Renzoni dice quel rondò è fatto male, la struttura è un ostacolo anche per il cantiere Rossini. E qui andiamo sulle pagine di Fano del Corriere, di questo ride notturno di topi d'auto a Sant'Orso. Basta, noi prigionieri in casa, l'esasperazione della presidente di Confcommercio prese di mira con il marito a Sant'Orso. E parliamo di Barbara Nicolini che è la presidente di Confcommercio con suo marito Daniele Pascucci che hanno pagato caro, perché avranno un conto salato dal carrozziere che dovrà sostituire i vetri delle due auto che sono stati sfondati, i finestrini delle loro automobili. I malintenzionati sono riusciti a mettere le mani su un iPad, un minicomputer, un portatile, uno zaino e anche alcuni documenti. Marcolini segnala anche l'azione di questi vandali e i segni dei bivacchi e chiede controlli con le telecamere. E l'attenzione ai ladri fa il giro come sempre anche con un tam-tam sui social network per mettere ed allertare un po' tutti quanti, quelli soprattutto che usano i social. Per quanto riguarda invece il Palazzo Borgogeli avveduti al via una serie di verifiche tecniche per l'acquisto del Palazzo Storico. La fondazione, sapete, l'abbiamo detto già ieri, la fondazione Cassa dei risparmi di Fano ha intenzionato a comprare questo Palazzo Borgogeli. Il segretario illustra l'iter di questa operazione di acquisto. E poi si parla anche della mensa di San Paterniano che si occupa di dare un pasto a chi ne ha bisogno, 20 anni di accoglienza con mezzo milione di pasti serviti. La politica sulla pagina di Fano ancora della Corea Adriate, una pagina dedicata alla politica, la politica del sospetto per demolire i risultati, ospedale all'Arenco e fondi elettorali, la replica del segretario cittadino del PD Pucci, replica diretta ai 5 Stelle. E poi sotto si parla ancora della centrodestra che non è riuscito ancora a trovare un candidato per le prossime elezioni. Questa è la fotografia della consigliera Lucia Tarsi che è ancora, almeno in questo momento, è ancora la possibile, la papabile candidata del centrodestra per il 2019. Doglioni della Lega, dice Lucia Tarsi, è più che mai in corsa, ma altri però lo contraddicono e parlano di altri nomi e parlano anche di altre situazioni. Intanto va detto che per esempio alla riunione di ieri sera non c'era, o dell'altra sera insomma, non c'era il sindaco di Colli al Metauro, rappresentante della Tufano, Stefano Aguzzi. Poi, ancora cronaca, da Pesero, fa il bagno alla capannina e si sente male, viene salvato da un chirurgo in vacanza, si parla di questo salvataggio, in quattro persone si tuffano per cercare di recuperarlo e questa è la fotografia che fa capire meglio di tutti insomma quali sono stati questi momenti drammatici di questi soccorsi sulla spiaggia della capannina appunto a Borgonovo. Sembrava scrutare il fondale con la maschera, invece era lì che stava galleggiando a pancia sotto perché appunto si è sentito male. Rianimato dal 118, il 58enne è in coma. E poi ancora, sempre dal Corriere Adriatico, ancora la cronaca, questa volta un processo, lanciò un topo di peluche al sindaco Ricci, ma non fu un gesto minaccioso, per questo è stato assolto in tribunale, l'uomo protestava in consiglio per la situazione di indigenza in cui viveva. L'indagine scattò d'ufficio, poi per seguita l'ex arrestato, il 50enne pesarese l'aspettava sotto il luogo di lavoro nonostante il divieto di avvicinarla. E parlavamo, dicevamo, di questo camion che si è incastrato sulla strada tra i due porti, siamo nella zona portuale di Pesaro, si incastra nel Rondò, sono stati disagi tra via Cecchia e il porto, il traffico è andato in tilt. Anna Renzoni, testimone, dice quella rotatoria è fatta male, penalizza il di Porto e anche il cantiere Rossini. Da Senigallia invece un albero è crollato in un giardino e si è rotta anche una porta, due tragedie sfiorate, brividi per i bambini, il campo di calcio utilizzato da una scuola, a Montignano, decisive le raffiche per abbattere, le raffiche di vento dei giorni scorsi per abbattere la pianta. Dalla Valle del Metauro invece da Colli al Metauro, fondazione articolo 32 che strappa Guzzi, comuni senza potere. Il sindaco di Colli al Metauro ci ripensa, lente replica, motivazioni non credibili. E poi sotto quadreria Cesarini, sabato la presentazione dei restauri. Dalla Valle del Cesano Fratterosa porta la fava al Salone del Gusto, l'unico presidio slow food della provincia. Rosatelli dice grande interesse degli operatori. Teppisti contro la Basilica, ragazzini siamo a Mondolfo, ora identificati. Doppia incursione domenica e lunedì, la seconda volta una residente dall'allarme. E poi da Senigallia ancora. Gli rubano la bicicletta e disperato, era l'ultimo regalo di mio nonno, vacanza da dimenticare per un turista romano, ladri scatenati, una stagione nera per le due ruote. Ne sono state rubate davvero tantissime. Come sempre l'appello corre sui social, l'appello della madre sul web scatta la mobilitazione per ritrovare appunto questa bicicletta che ha più un ricordo affettivo che economico. È un valore effettivo più che economico. In manette per lesioni viene espulso, ma lui spaccia i giardini, è arrestato due volte. Un anno fa il giudice aveva dato al clandestino nigeriano sette giorni di tempo per lasciare il territorio. Questo è successo a Senigallia nei giardini Morandi, dove questo uomo, questo 25enne, andava a spacciare. Magistrato muore nel suo ufficio, Lanfranco Ferroni, 68 anni, era dirigente del Tribunale di San Marino. Da anni viveva a Civitanova Marche, a stroncano un arresto cardiaco, la scoperta fatta da un dipendente che lo ha trovato riverso a terra. Dalla Valle Foglia invece la banda ultralarga, parliamo di internet, è realtà. Via Libera, Diana Seferovia, investimento da 600 mila euro, lavori conclusi per la prossima primavera. Da Fano invece campagna contro la violenza delle donne, il coraggio di Jessica Notaro, la miss sfregiata sarà venerdì in teatro per la difesa delle donne con parole, poesia e musica. Da Urbino invece la radiologia è un'eccellenza, abbattuta la mobilità passiva, sindacalisti dell'area vasta 1 dicono persone giuste nei posti giusti, così facciamo più forti, così siamo più forti dei tagli. E da Pesola la notizia che i matrimoni, che i pesaresi, anzi preferiscono il rito civile per sposarsi, prevare la separazione dei beni, in due anni poi sono state celebrate anche 11 nozze gay. Carabiniere, eroe riscoperto 74 anni dopo, una storia da Sasso Corvaro, ucciso per errore, salvò il ponte sul Foglia, l'arma partendo da un cippo ha ridato luce alla vita di Domenico Bertucci, Sasso Corvaro sabato gli dedicherà una via. L'ultima pagina invece è per lo sport, alla Lube è conto alla rovescia, lunedì tornano quelli che sono impegnati nella nazionale di pallavolo, mercoledì sera la presentazione in grande stile a Civitanova di tutta la squadra, sabato 6 ottobre invece a Perugia la Supercoppa con il primo trofeo vero, tutto da conquistare. In A2 invece la Golden Plast, oggi di scena a Ortona, Golden Plast che gioca, Potenza Piscena che gioca in Serie A2 e qui posso darvi anche la notizia già ufficiale che Fano TV sarà la televisione ufficiale del squadra di A2 di pallavolo della Golden Plast e trasmetterà il lunedì sera in seconda serata tutte le partite di questa squadra che milita appunto in Serie A2. È tutto, grazie per aver seguito la nostra segna stampa, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale, occhio alla notizia, arrivederci.